Scrivere e leggere fa bene, scrivere fa bene, leggere fa bene, è cibo per l'anima, è come la corsa. Scrivete quello che volete, non dovete per forza pubblicarlo, leggete molto, perché ogni lettura, ogni libro è un viaggio affascinante. Ho scritto questo libro per dare il mio filo magico anche ad altre persone. Il filo magico è una passione, nel mio caso è stata la corsa che mi ha portato via da un pozzo buio dove ero incatenato, in una prigione senza sbarri, senza aria, senza speranza, che è la depressione. Per questo ho scritto il libro, la corsa mi ha salvato la vita, anche grazie alle cure, all'affetto, all'amore delle persone, mi ha fatto scoprire un mondo meraviglioso e adesso sono la persona più fortuna del mondo e ho voluto trasferire agli altri questa mia gioia. Il libro è nato praticamente quando ho cominciato a correre, 5 anni fa, io prendevo la macchina anche per fare 100 metri, poi ho fatto un voto di fare la maradona di New York e 11 mesi dopo ero a fare la maradona di New York. Ne ho fatte altre 4, ma la corsa non regala soltanto medagli, regala emozioni, vecchie e nuove, amici, ti fa sbocciare e ti rende la vita a colori. Mai smettere di sognare, ecco, l'invito che rivolgo a tutti quanti leggendo questo libro, Corri dall'inferno a Central Park.